Quando da una piccola idea nasce qualcosa di grande, allora è il momento di condividerlo con altre persone. Con il mobile marketing, la WLM GMBH apre orizzonti completamente nuovi e ora tu puoi beneficiare di questa strategia di marketing unica. Utilizza il tuo smartphone, i social network come Facebook o Twitter, ma anche WhatsApp o SMS per generare facilmente e rapidamente un'altra entrata. Una domanda? Sai inviare un messaggio? Sai come condividere un link ad un video? Sai consigliare un'app? Allora sei proprio la persona che aspettava il mobile marketing, perché non serve niente di più. Stai utilizzando i maggiori canali di comunicazione del mondo. Ci sono 1,5 miliardi di utenti Facebook attivi ogni mese. Un miliardo di persone utilizza WhatsApp. 400 milioni di persone condividono la loro vita con gli altri su Instagram. Vengono visualizzati più di 8 miliardi di video al giorno. Con WhatsApp vengono inviati più di 42 miliardi di messaggi ogni giorno. È un potenziale illimitato per il nostro mobile marketing. Quando qualcosa ti entusiasma, la condividi in un modo o in un altro. Ora immagina di essere premiato per ogni raccomandazione di successo. È proprio ciò che fa la strategia di mobile marketing della VLM. Quasi tutti amano il proprio smartphone. MyProtec è il prodotto che 8 possessori di smartphone su 10 comprerebbero. Quasi tutti quelli che conoscono questo prodotto vorrebbero averlo. Mai più display rotti. Addio a costosi gusci o custodie per il cellulare, praticamente immune da impronte digitali o batteri. MyProtec offre esattamente quello che vogliono tutti al favoloso prezzo di soli 29,90 euro. Con un utilizzo corretto del mobile marketing come partner VLM, il successo è assicurato. Quanti contatti hai? 10? 100? 500? In Europa si hanno in media 300 contatti nello smartphone e nei social network. Il tuo messaggio potrebbe essere se lo fai con i tuoi contatti farai sicuramente interessare le persone ai prodotti della VLM e sarai anche premiato giustamente. È il modello di business più semplice in assoluto. La VLM ha creato un piano di retribuzione semplice ma molto efficace che paga davvero. Sono tante piccole somme che insieme ne formano una grande. Ora te lo faccio vedere. A differenza della maggior parte delle opportunità commerciali più conosciute, qui non sei obbligato a iniziare con grossi kit di base o costose licenze commerciali. Così la VLM ha creato un business che si possono permettere davvero tutti. Se vuoi buy ProTec per il tuo smartphone o tablet, puoi scegliere se ordinarlo come cliente, rivenditore o partner. Il cliente e il partner pagano una piccola cifra per il prodotto. Solo il rivenditore lo acquista con un risparmio del 20%. In qualità di partner avrai un ufficio professionale online per costruire il tuo business. La maggior parte dei clienti e partner iniziano con almeno 3-12 panni MyProTec. Innanzitutto perché in una famiglia di solito ci sono più dispositivi e il partner vuole avere il materiale da presentare. 3 panni significa anche avere il diritto di commissione per 3 mesi. La VLM ha chiesto a 100 persone se avrebbero acquistato questo prodotto. Oltre l'80% ha detto sì con entusiasmo. Ma ora voglio fare un esempio sulle persone vicine a te e di cui ti fidi. Non 80, ma solo 5 persone. Supponiamo che queste 5 persone siano entusiaste come te e che ognuna compri solo un pacchetto con 3 panni. Per un panno avrai due punti. Un punto ha il valore di 1 euro. Se hai solo 5 amici guadagni solo 30 euro nel livello 1. Le 5 persone di cui si fidano i tuoi amici sono il livello 2 e gli amici degli amici degli amici sono il livello 3. Avrai sempre 2 euro per ogni panno MyProTec. Il fattore 5 al livello 3 significa aver guadagnato già più di 1.000 euro. A livello 3 non finisce tutto. Più i prodotti si muovono, più ne trarai beneficio. Ci sono altri 3 tipi di bonus e 5 stimolanti livelli di carriera nella strategia di marketing della VLM. Con soli 4.000 punti che sarebbero 2.000 panni MyProTec al mese, sarai persino coinvolto nelle vendite in tutto il mondo. Capisci cosa può significare per te? Ci sono già più di 1,6 miliardi di smartphone e la metà della stessa cifra di tablet in tutto il mondo. Parliamo di un potenziale di mercato infinito. La VLM GMBH ha in programma milioni di consegne di prodotti e lancerà altri prodotti unici. Immagina di non avere più graffi sugli occhiali o insetti sul parabrezza della tua auto. 5 categorie di prodotti incredibilmente stimolanti conquisteranno il mercato nei prossimi due anni e diventeranno successi assoluti. Alla direzione viene sempre chiesto il motivo per cui ha scelto questa innovativa strategia di marketing. In primo luogo il prodotto rimane conveniente perché i costi di logistica, marketing e personale sono ridotti al minimo. In secondo luogo è stata creata una nuova categoria di prodotti che non sarà necessariamente accolta favorevolmente nel settore degli smartphone e in terzo luogo la strategia di mobile marketing può cambiare completamente diverse migliaia di vite. Cogli questa opportunità. Non ci sono rischi o costi aziendali. Non devi pagare costose licenze o kit di base. Devi solo perfezionare il tuo smartphone. Compra più panni per te e per la tua famiglia. risparmi a tempo e denaro e inizia il tuo mobile marketing. Grazie per il tuo tempo. Grazie per la visione!